Buongiorno e ben ritrovati in un nuovo video in cui rispondo alle migliori domande di Reddit Italia Personal Finance il format in cui all'incirca in un minuto cerco di rispondere a una serie di domande oggi ho preparato 12 domande, lasciate un like e iniziamo Prima domanda, il mio domani, fondo pensione, banca intesa 25 anni, già aperto il fondo pensione 6 anni fa, stupidamente io ti direi di no, stupidamente, per aver aperto il fondo pensione nel senso che è un'ottima idea aprire il fondo pensione molto giovani perché si iniziano a maturare determinati benefici però non avrei aperto il mio domani di banca intesa al momento ogni mese sto investendo 500 in VWCE e 100 euro su questo fondo pensione non può beneficiare di deduzioni perché lavora come trasfrontaliere in Svizzera da questo punto di vista il fondo pensione, come dicevamo può essere un ottimo strumento da aprire per avere determinati vantaggi se sei lavoratore dipendente in Italia puoi aprire il fondo pensione chiuso anche da giovane per maturare determinati vantaggi avere il contributo del datore di lavoro pensare di utilizzarlo come fondo di emergenza visto che dall'ottavo anno puoi comunque prelevare il 30% del fondo pensione senza particolari motivazioni quindi da questo punto di vista può essere uno strumento utile anche per un giovane perlomeno aprirlo in alcuni casi non costa nulla o costa molto poco ci permette di guadagnare anzianità sui contributi non dedotti per i primi 5 anni, per i giovani abbiamo la possibilità poi di recuperarli successivamente quindi ci sono tanti vantaggi nell'aprire un fondo pensione da giovani in questo caso non ci sono assolutamente vantaggi nel contribuire al fondo pensione quindi cosa si dovrebbe fare? spostare tutto l'investimento in ETF quanto già investito all'interno del fondo pensione ormai investito pensare quindi di trasferirlo all'interno di un fondo pensione che sia più efficiente in questo caso avendo un fondo pensione azionario ho fatto un video a riguardo vi rimando comunque in breve allianze insieme a mundi seconda pensione possono essere due opzioni prossima domanda consigli ripartizione portafoglio qua insomma il consulente a cui mi sono rivolto ha fatto questa ripartizione del portafoglio mi piacerebbe avere qualche feedback ci ho dato un occhio non sono molto d'accordo con questo portafoglio allora abbiamo una bella fetta su brevissimo termine potrebbero esserci motivi particolari non c'è un problema particolare in questo ci sono alcuni problemi relativi alla composizione perché orizzonte temporale ideale ad esempio parliamo di due certificati che si scadono nel 2025 ma non possiamo pensare di investire in certificati con un orizzonte temporale di un anno perché ci può essere una disparità di risultati enormi in particolare questi sono certificati che danno una cedola elevata e hanno il classico rischio left tail ossia se tutto va bene in situazioni normali potranno avere i rendimenti delle cedole con una buona probabilità però magari ci sarà un 10, 20, 30% dei casi in cui andremo sotto barriera e ci troveremo a perdere tantissimo barriera al 50% e quindi è un calo che sembrerebbe molto drastico ma su un singolo titolo mi sono arrivate tantissime situazioni in cui portafogli pieni di certificati abbiano subito perdite importanti nel corso del 2022 e queste sono tutte situazioni in cui non veniva percepito il rischio del certificato adesso in realtà non avevo visto il certificato bene sono andato a vederlo in questo caso particolare ad esempio abbiamo Tesla che ha un 34% della barriera sembra tanto ma soprattutto per un titolo come Tesla potrebbe esserci un timing terribile per cui arriva a barriera e tocca barriera nel momento in cui ci avviciniamo alla scadenza e quindi non prendiamo le cedole quindi non possiamo compensare e oltretutto perdiamo capitale perché uno solo dei titoli ha toccato la barriera poi vabbè un 4-5 anni di orizzonte sull'azionario qualcuno commentava che era poco lo vedremo poi in un'altra domanda del video che è una cosa che voglio trattare diciamo che 4-5 anni è poco per avere delle certezze di rendimenti positivi però partiamo dal presupposto che l'azionario ha un rendimento atteso superiore alla media e uno se accetta la variabilità che può avere in termini di risultato all'anno 4 può comunque andare a prendersi al rendimento atteso più elevato resta il discorso che se lo prendiamo con un orizzonte di 10 anni ci saranno probabilità altissime che il rendimento sia superiore allo 0 se lo prendiamo su 4 anni le probabilità sono comunque abbastanza alte però non sono vicine al 100% poi al di là di questo altra cosa qua vedo segnalato che lo Xeon compensa minusvalenze in realtà non è così ci sono dei titoli obbligazionari a cedola 0 ci sarebbe da verificare in questo momento ma magari poteva aver senso valutare altri titoli obbligazionari ad esempio italiani anche per un discorso relativo ai volumi e quindi lo spread nel momento di acquisto hai un portafoglio obbligazionario così concentrato per cui a sto punto uno poteva pensare di prendere anche un titolo di stato italiano anche perché soprattutto sono titoli di stato con scadenza un anno quindi l'emittente in questo caso diventerebbe meno importante in questo caso ovviamente se si va a prendere un altro emittente non in Italia potrebbe essere rilevante anche su un anno prossima acquisto BTP in previsione del ribasso dei tassi buongiorno a tutti parlando con una persona di fiducia mi è stato consigliato l'acquisto di BTP in quanto secondo lei questo quest'anno ci sarà una riduzione dei tassi di interesse in Europa e quindi i BTP ne beneficeranno abbiamo già parlato all'interno del canale delle obbligazioni e del movimento soprattutto delle obbligazioni di lunga durata rispetto ai tassi base e è importante considerare il fatto che non c'è una relazione uno a uno tra tassi di lungo periodo e tassi base ovviamente se ci fosse una riduzione molto brusca dei tassi base per forza di cose porta a scendere anche i tassi lunghi ma se la riduzione dei tassi fosse nell'ordine di 50-100 punti base potrebbe anche essere che i tassi a lungo non scendano così tanto c'è da fare attenzione anche e soprattutto considerato che noi vediamo la curva del BTP però all'interno del BTP c'è uno spread lo spread dipende dal rischio percepito paese e non direttamente dai tassi lo spread è rispetto alla Germania e in questo momento se prendiamo come riferimento il boom tedesco dà un rendimento del 2,4% su 10 anni quindi non è un rendimento stratosferico e si tratta comunque di curva inclinata paradossalmente se vogliamo fare un confronto con inizio anno quando si urlava all'acquisto di obbligazioni lunghe in tutte le salse ho fatto un video appunto per parlare dell'andamento dei tassi lunghi rispetto ai tassi brevi e al tempo i boom da 10 anni erano più vicini al 2% che al 2,4% quindi eventualmente una forte scommessa contro un grande ribasso dei tassi potrebbe essere addirittura fatto sul boom sappiamo che stiamo acquistando un'obbligazione che ci garantisce se prendiamo un decennale per 10 anni il 2,4% di rendimento BTP come dicevamo un po' meglio in termini di rendimenti perché c'è il rischio paese che è apprezzato all'interno di questo spread prossima rientro di un prestito salve a tutti ragazzo di 23 anni finito da 6 mesi percorso universitario lavora richiesto il prestito studio sì per gli studenti che vivono nel mezzogiorno italiano e vogliono studiare fuori lo inizierò a pagare dal 1 gennaio 2026 la cifra monta circa 20k da restituire in 15 anni questo è un prestito agevolato tasso 0% non so esattamente quali siano le condizioni più tardi si può pagare meglio è giustamente si faceva riferimento al fatto che i sedi di altro finanziamento ad esempio il mutuo per l'acquisto della casa potrebbe essere un problema ma assolutamente tranquilli nel senso che da una parte abbiamo un prestito 0 se l'obiettivo è comprare casa prima casa seconda casa quello che è e vogliamo farlo nel breve semplicemente accumuleremo la liquidità per rimborsare anticipatamente questo prestito all'interno di strumenti a bassissimo rischio potremmo acquistare titoli obbligazionari a breve termine in questo momento ci daranno rendimenti tra il 3,5% a scendere se andiamo in là di qualche anno di scadenza e quindi avremo un delta positivo comunque di un 3% 2,5% netto certo su 20k non sono tantissimi però comunque sono quei 500 euro all'anno che riusciamo a mettere da parte in più perché abbiamo un prestito gratuito e dall'altra parte stiamo ricevendo una remunerazione prossima domanda ciao a tutti da poco ho ricevuto una somma di circa 50k di eredità mi è stato consigliato di investire può essere una buona idea non lasciare in banca marcire può essere una buona idea a seconda di quelli che sono gli obiettivi farò un incontro con una consulente finanziaria per capire come investire e un'amica di famiglia dubito cercherà di fregarmi mi rivolgo a voi per sapere che domande fare allora giustamente qualcuno ha detto anche se amico di mia famiglia attenzione perché purtroppo se la consulente lavora in un determinato modo è obbligata a vendere determinati prodotti quindi questo è un primo punto la domanda essenziale da fare al consulente in primis se non sai bene come è organizzata l'attività è come ti pago cioè cosa stai guadagnando da questa consulenza come la stai guadagnando nel momento in cui tu sai che si tratta di un consulente indipendente è ovvio che dovrai dare parcella nel momento in cui sai che la consulenza è impostata diversamente sarà impostata diversamente un'altra domanda connessa a questa potrebbe essere molto semplicemente sapere con che prodotti opera il consulente questo ti aiuta a capire anche se può trarre vantaggio da determinati prodotti potrebbe essere che voglia raccomandare fondi per qualche strano motivo anche se indipendente onestamente io personalmente farei fatica a darle una motivazione però potrebbe essere però intanto si può accendere la campanellina e quindi puoi fare un pochino più attenzione altra domanda per cautelarti potrebbe essere una volta terminato il processo di consulenza prima di investire chiedere qual è il costo ricorrente di questa soluzione che ti è stata creata queste sono domande molto basi poi ovviamente ci sarebbero domande da fare molto più in dettaglio sia come gestisce il consulente il rapporto con il proprio cliente un'altra domanda importante capire quanti clienti segue questo consulente per seguire adeguatamente i clienti non si può avere 150 100 clienti è una cosa impensabile però tanti consulenti lo fanno soprattutto nel contesto della rete quindi da questo punto di vista fare attenzioni su determinate cose ultima domanda puoi conoscere meglio la preparazione ovviamente un cliente che si affaccia al consulente si affaccia da un livello diverso perché va da un consulente proprio per avere supporto quindi è molto più difficile valutare la preparazione come si può valutare sapendo il percorso fatto dal consulente presupposto che avere una laurea in economia anche laurea magistrale non vuol dire per forza che si tratti un buon consulente è un punto di partenza perlomeno sappiamo che ha fatto un percorso di laurea sapere che ha fatto certificazioni importanti è un altro segnale importante soprattutto se sono certificazioni internazionali tipo CFA e così via cioè avere qualche segnale che per te che arrivi dal consulente per farti aiutare possa darti più garanzie in termini di professionalità preparazione e così via mi trovo con 13k e non so dove metterli mia nonna vuole darmi questi soldi per paura che un giorno non ci sarà più e io vorrei tenerli da qualche parte dove siano al sicuro il più possibile dall'inflazione ma che se io ne avessi bisogno siano pronti per essere spostati nel conto ed utilizzati fondo pensione ad esempio ma so che non sarebbe molto accessibile infatti ragazzi di 22 anni allora di nuovo fondo pensione vabbè non voglio ripetere quello detto prima aprilo ma non metterci nulla se stai lavorando mettici il tfr eventualmente il contributo minimo a 22 anni hai pochi vantaggi nel mettere dentro soprattutto perché i primi 5 anni di deduzione li puoi recuperare se vuoi proteggerti dall'inflazione dovrai cercare degli investimenti che abbiano un rendimento reale positivo perlomeno quindi in questo momento storico potresti valutare anche delle obbligazioni sia obbligazioni indicizzate all'inflazione perché comunque hanno dei tassi reali positivi sia obbligazioni nominali perché allo stato attuale i tassi di interesse coprono l'inflazione nell'eurozona ovvio che se vai su obbligazioni indicizzate sei tranquillo che per la durata sei coperto se vai sulle nominali potresti essere coperto più o meno a seconda di come si muoverà l'inflazione e questo potrebbe essere una buona soluzione se tu non sai quando vuoi utilizzarli e vuoi avere una certa tranquillità della disponibilità del capitale a una data scadenza si potrebbe comunque valutare una percentuale di azionario come dicevamo anche prima perché ti dà un rendimento atteso superiore e valutarlo magari in piccola percentuale perché abbinato alle obbligazioni avrai comunque una variabilità estremamente bassa e comunque magari garanzie lo stesso di rendimenti positivi se la quota è veramente bassa fermo restando sempre la buona riuscita del rimborso delle obbligazioni garanzie non ce ne sono mai miglior strumento per fondi che vi serviranno ma quando uno sei mesi un anno o anche cinque anni allora qua è un discorso importante perché dipende tutto dalla variabilità che vogliamo assumerci possiamo eventualmente investire nell'azionario anche con un orizzonte di un mese pur sapendo che in un mese potrebbe andarci discretamente bene ma anche malissimo anzi solitamente uno shock è molto più forte verso il basso che poi quella che può essere la salita in un mese quindi se sappiamo i rischi che stiamo correndo anche su orizzonti brevi uno può valutare perlomeno in una certa parte azionario qua per fare un esempio ho già aperto questa pagina se andiamo a prendere un portafoglio 60-40 vabbè qua è stato fatto sugli Stati Uniti però è adattabile uno può prendere un live strategy 60-40 e possiamo attenderci qualcosa di simile vediamo che il rendimento a tre anni ha una certa variabilità certo sarebbe meglio avere un orizzonte almeno di cinque anni per avere qualche certezza in più però comunque anche su tre anni diciamo che il massimo è molto più elevato del minimo e abbiamo una mediana che è discretamente buona e soprattutto se andiamo a vedere il range quindi il 70% dei casi in mezzo siamo tra un meno 0,5% in un 11,7 con un meno 0,5 con rendimenti reali comunque perché meno 0,5 potrebbe essere un rendimento reale negativo ma probabilmente è stato un rendimento nominale comunque positivo quindi io valuterei comunque una buona dose di azionario se sei giovane e se non hai esattamente bisogno di questo capitale cioè sai che potresti voler attingere a questo capitale ma non sai che ti serviranno esattamente 20.000 euro tu magari ne hai 30 e quindi può comunque aver senso fare un 40,60 e poi nel momento in cui dovessi aver bisogno se per dire l'azionario è andato particolarmente male e l'obbligazionario bene sai che andrai a vendere questo strumento eventualmente questo live strategy 40,60 e la parte eccedente la rimetterà in azioni aspettando che ci sia un ritorno alla media non deve essere fatto così il discorso è che è totalmente personale se uno vuole assumersi questa variabilità il rendimento atteso aggiungendo azionario cresce quindi potrebbe aver senso anche su orizzonti brevi giusto per sfatare il mito che l'azionario va bene solo se abbiamo 10 anni di tempo o x anni di tempo metteteci voi il numero potrebbe essere come no dipende da cosa uno vuole assumersi in termini di incertezza che può prendersi sono andato un pochino lungo restano 4 domande cerchiamo di rispondere rapidamente etf world oppure tira etf vwce oppure 60% smp500 300% europa 600 10% emergenti asia non c'è una risposta corretta all'occhio ti direi la prima soluzione altrimenti se scegli la seconda soluzione devi anche saper spiegare perché ti stai sovresponendo sull'europa perché è quello che stai facendo sovresponendo sugli emergenti asiatici e perché stai riducendo la quota di investimento nella parte asia pacifico non emergente dove ad esempio ci sono giappone australia e così via nella parte nord america non stati uniti quindi ad esempio canada stiamo facendo delle scelte escludendo un sacco di cose la parte emergente ad esempio tutto il sud america tante cose non sono all'interno di questo portafoglio potrebbe andare bene come no se c'è un ragionamento dietro e sei convinto potrebbe anche andare se devo darti una risposta si no ti dico meglio vwce suggerimento surroga ho stipulato un mutuo con credem novembre 23 tasso 383 ho appena pagato terza rata casa in classe energetica a tasso al 265 mi conviene chiedere se un raga ora giustamente uno sotto risponde di fare attenzione a quello che viene richiesto e te lo confermo credi agricol per esperienza personale chiede un sacco di polizze che non rientrano nel calcolo del tag quando vai a fare la simulazione cosa che non succede da intesa perlomeno a me non è successa quindi intesa potrebbe convenire perlomeno valutare entrambe chiedi un preventivo guarda bene i costi cioè guarda bene il foglio che ti danno non so fermarti ai numeri guarda tutto o meglio non so fermarti solo ai numeri essenziali ma guarda di tutti e poi prendi una decisione certo è che dal 385 al 265 fa la differenza io chiederei surroga e poi dopo eventualmente tu puoi richiederlo nella vita del mutuo se i tassi dovessero scendere drasticamente nel corso dei prossimi mesi dei prossimi anni gestione liquidità prima casa prenderemo soldi 24 25 26 a progetto acquisto prima casa dove metterli se vogliamo avere tranquillità di un rendimento possiamo pensare di metterli su obbligazioni 26 se vogliamo bloccarci dei tassi quindi stiamo scommettendo che i tassi scendano di più del previsto fondo monetario etf monetario se vogliamo scommettere su dei tassi più alti del previsto quindi che mantenendo il fondo monetario riusciremo nella vita quindi questi due anni due anni e mezzo ad avere un rendimento leggermente superiore si tratta di così poco tempo che fondamentalmente a livello poi dopo di controllo all'ora finale molto probabilmente non ci saranno grandi differenze a meno che non si parli di patrimoni enormi obbligazionario a yield tenderei a scartarlo di nuovo si può valutare una piccolissima fetta di azionario soprattutto nella quota che verrà investita nel 24 si può pensare di mettere il 5% della quota in azionario il 10% della quota non ti cambia la vita ti alza il rendimento atteso e quindi se tutto va bene potresti avere un rendimento superiore ultima domanda cosa abbinare a VWCE NCIL la domanda ha molto senso perché si potrebbe voler abbinare qualcosa cosa abbini dipende da te nel senso che per come la vedo io potrebbe aver senso avere una piccola quota investita in modo totalmente diverso ad esempio Factor Investing alternativamente potresti valutare altre cose non so sovrappesare qualche area geografica per n motivi potresti voler utilizzare lo Schiller PI e quindi sovrappesare non so fondamentalmente tutto tranne Stati Uniti o per altre ragioni altre metriche potresti voler sovrappesare altri paesi nella domanda viene detto che sta considerando un etf emergenti i shares si dovrebbe cercare di rispondere alla domanda perché voglio sovrappesare gli emergenti poi giustamente qualcuno risponde io affinché erei dell'altro CHILL spero che questa sessione sia stata interessante e utile se avete trovato informazioni interessanti potete lasciare un like per far vedere il video da più persone se siete nuovi sul canale potete iscrivervi cliccando sulla campanellina e io vi consiglio il vecchio video in cui rispondevo a delle altre domande ci vediamo in un prossimo video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti